Javier Martinez, noto pallavolista argentino e concorrente del Grande Fratello, è tornato al centro dell'attenzione per le sue recenti dichiarazioni su Shaila Gatta. Dopo le tensioni vissute nella casa, Javier ha rivelato di essere disposto a perdonare Shaila nonostante i tradimenti subiti. Durante una conversazione con Luca Giglio, però, la produzione ha deciso di censurare le sue parole, lasciando i fan con molti interrogativi. Javier sembra non riuscire a dimenticare Shaila nonostante le delusioni passate. Ha ammesso di considerare un possibile perdono se lei si pente e torna da lui. Tuttavia, il pallavolista dubbi sul sincero ritorno di Shaila o se sia solo un tentativo di manipolazione. La vicinanza tra Shaila e Lorenzo ha suscitato perplessità in Javier, che sospetta una strategia orchestrata dalla produzione per creare tensioni. Durante una conversazione, Javier ha ricordato una notte con Shaila, ma le sue parole sono state censurate dalla produzione. Questo gesto ha scatenato il pubblico che si chiede cosa volesse proteggere la produzione e quali dettagli scottanti potesse rivelare Javier. Nonostante la frustrazione, Javier spera in un chiarimento con Shaila, ma teme di essere ferito nuovamente. Il futuro di Javier e Shaila è incerto. Con il pubblico, che si chiede se il ritorno di Shaila porterà un nuovo inizio o un'altra delusione per Shaila. La censura della produzione nasconde informazioni compromettenti? Shaila si trova in un momento di profonda introspezione, vulnerabile ma risoluto nel suo desiderio di comprendere le vere intenzioni di Shaila. Il mistero che avvolge la loro relazione continua ad appassionare il pubblico, che attende con ansia